Buonasera ragazzi, e adesso partiamo con il zero per genere della nostra Juventus. Vamos, vamos cazzo, vamos! Cesni, 6, buona partita da parte di Cesni, buone uscite per lui. Quadrado, 7, bella partita da parte di Quadrado, molto bene in fase difensiva, molto bene in fase di spinta e che per la galattica, che gol galattico da parte di Quadrado, direttamente da calcio d'angolo, molto bene del gol di Ceranogro a Roma, gol galattico, Quadrado, Dericht, 6,5, bella partita da parte di Dericht, molto bene in fase difensiva, Chiellini, 7, Chiellini, monumentare, Chiellini, gradiatore, non è passato un cazzo dalle sue parti. Peregrini, 6,5, bella partita da parte di Peregrini, molto bene in fase difensiva e molto bene anche in fase di spinta. Bentancur, 6, buona partita da parte di Bentancur, molto bene a centrocampo. Locatelli, 6,5, bella partita da parte di Locatelli, molto bene la gestione palla, molto bene a centrocampo e bei passaggi da parte di Locatelli. Kuruseschi, 6, buona partita da parte di Kuruseschi, ma potessi usare di più. Di Bara, 7, bella partita da parte di Di Bara, molto più positiva in avanti, ha fatto salire la squadra e anche il gol nel finale. Benadeschi, 6,5, buona partita da parte di Benadeschi, ti do mezzo voto in più per l'assist, per i gol di Bara nel finale. Morata, 4,5, brutta partita da parte di Morata, quante cazzo di occasioni da gol che hai sbagliato davanti alla porta, ti metti un 4,5 stasera, Morata. Cambi, Alessandro, 6, strano ma vero, ma non hai fatto cagate stasera. Ken, senza voto, Rabiot, senza voto, Caio Giorgio, senza voto. Bene, ragazzi, questo è tutto, vi auguro una buonanotte, iscrivetevi al canale YouTube, visitatevi anche su Instagram, su ZebraBianconera95, e seguitevi anche sulla pagina Facebook di ZebraBianconera. Nella gira del dolore, fino alla fine, forza di vento sempre, buonanotte a tutti, ragazzi, ciao! Grazie a tutti!